Ciao a tutti, sono Spiegeraventato e benvenuti a un nuovo video qui sul mio canale. Come adesso siamo su Random Play, oggi chiama Harry's Action, un gioco consigliato da Tommaso, sì. Si trova su Steam, non è un free to play a pagamento, però costa abbastanza poco. E niente, faccio questo gioco, appunto perché non l'avete consigliato voi. La persona che mi ha consigliato questo gioco mi ha detto che potrei avere dei problemi, mi ha detto che assomiglia a Cat Mario. Perciò mi sto già suicidando, anche perché questa musichetta mi fa già un po' di nervoso, anzi la devo abbassare. Quindi niente, iniziamo subito. Allora, ecco options. What the... Come si? Eh, qual è il tasto? Ah, Z. L'abbassata. Oh. Scusate, ma non la sopporto con la musichetta. Così. Ora possiamo tornare indietro. Zetta. Perché la Zetta? E questo cosa sarebbe? Boh. Iniziamo. Harry's house. Non l'ho ancora provato, perciò... Harry's lovely melon that she was looking forward to hitting as being stolen by Farta the troll. Let's go get it back. Mi hanno rubato un melone. Allora, dobbiamo recuperare. Bastardo. Ok. What the fuck? Ah, Zetta. Stage 1. Guide Harry to the stage goal. Allora, dobbiamo guidarla in un punto di vincita. Cioè, in un punto in cui si vince. Le... Come si chiamano? The flags. Le... Bandiere. Sono i punti di salvataggio. Buona fortuna. Grazie a tante. Ma porca puttana. Questo è peggio di un film horror. Beh, di un gioco horror, scusate. Quindi... Come devo fare? Olè. No, no. Oh, che palle. Che fatta cazzo di cazzo? Sì, assomiglia a Catmerio. Però... Cambia soltanto che questa ha... Diciamo l'area di una deficientina. Che saltiamo queste. Non so perché mi aspetto che mi uccidano queste cose. No. Iniziamo bene. Minzyginan. Quindi devo volare sopra queste cose. Ma è impossibile! Puttana troia malefica. Puttana. Avete già capito che tipo di gioco è e che tipo di gioco... Che tipo di persona sono. Lo sapete. Ecco. Ecco. Questo è un creeper. What? Did you try using the pick up button? Maybe you could get up higher if you pick up and move that jump mushroom over that. Eh... Pick up. We could get up higher if you pick up... Ah, ok. Devo saltare su questo. Allora, un problema. Ho calcato esc per sbaglio. Ora non riesco ad andare avanti. Perché se... Se mi fermo... Guardate. Se io adesso faccio così, che ne so. Lo faccio scendere e poi scappo. In ogni caso prima ce n'è un altro. Quindi... Non saprei però più. Come ho fatto prima? Aha. Ok. Ok. Ora calco zetta. E iniziamo di nuovo. Oh, dove eravamo prima? Cioè all'inizio. Allora, dobbiamo saltare qui. Saltare sti piccioni malediti. Ok. Poi venire qui. Oh, merda. Oh, cazzo. No? Porco cane. No, 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 no. Perché ho scelto questo gioco? Perché l'ho fatto? Perché avete scelto questo gioco, bastardi? No. Mi devo sfogare così per forza. Non posso urlare. Come al solito stare distranno tardi. O presto. O presto. Dipende dalle... Come si dice? Ognuno la vede a modo suo. No. No. No, 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 no. Sclero time. Cazzo, salta, porca puttana, salta. Ollè. Ammazzia... Ammazziamola. Allora, qua devo saltare, fare così. Non mi ha fatto niente prima. Non mi ha fatto niente prima. Una scatola di merda che sembra un creeper di merda. Va bene, va bene. Ok, calmi. Con calma si risolve tutto. Allora, salto. Ma, vado giù. Ok. Passa. Facciamo passare anche sto bastardino. E anche l'altro, spero, quello. No. Ma se è una puttana. Ok, aspettiamo qui. Facciamo passare il papagallo, l'uccello di merda, insomma. No, 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 no si ok no porco si si cazzo ciao puttana ora posso anche hey you can enter wazos by pressing ok che effetti speciali mamma mia non vai a fanculo mi sta prendendo per il culo voglio riprovarci un attimino proviamo a saltare no no è proprio così ok questo gioca un po no sense che cacchio tu devi morire si 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 porco cane impestato lurido bastardo chi ha creato sto gioco di merda come cazzo fa lo so io come devo fare lo so io 20 morti ho già fatto 20 morte morti ora salto qui salto qui salto qui ok oh cazzo ma porco cane no c'era una no 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 state più certi che di questo gioco non ne farò una cazzo di serie no ho capito devo ringrazio devo ringraziare dio che non ho messo la webcam perchè mi sono dimenticato e che cazzo ho capito tu devi morire no devi morire uccello piccione porco cane c'è un diamante lassù che mi vuole uccidere o sbaglio porca puttana perchè cazzo ho fatto sta serie calmo questo diamante è vero si aia cazzo però però sono arrivato al nuovo safe point mi basta quindi basta che mi fermo qui poi salto ciao vuoi uccidermi? no si che vuole uccidermi puttana sei un gatto di merda lo sai morirai entro stanotte si non vedrai la luce del giorno allora io ti salto in testa come giusto porco cane che sia cazzo non ho capito come funziona cioè io ci salto sopra e lui cammina allora vediamo un po' io li salto sopra ho vinto ho vinto cos'era quello? ma l'ho vinto ma siete le mie puttane di merda siete le mie puttane di merda siete le mie puttane di merda vaffanculo vaffanculo ora devo vincere sinchè non vinco questo livello io non smetto di registrare ah qua devo correre poi qua c'è la rana di merda ok che cazzo sto soffrendo tantissimo allora 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 non ci siamo capiti cazzo porco cane porco cane porco cane se avessi fatto la webcam mi avrebbero denunciato ogni volta mi fa cagare e quindi come devo fare? cazzo però forse devo saltare dall'alto proviamoci dai solo che quella rana mi fa cagare addosso come questo quando mi segue mi fa venire l'ansia cazzo rana di merda devi morire anche tu non devi vedere la luce del sole domani porco cane ok mi sono sfogato vediamo un po' salto sto leone di merda che non ho capito se è un leone, un orso o un cazzo che sia qua esce la rana fermi tutti ora salto la bandiera perchè? perchè? che cazzo devo fare? io non lo so who's the pick up button to pick up bad guys and sprinklers? pick up pick up button qual'è il pick up button? pick up il tasto di su perchè mi fa stare? cane lurido bastardo finocchio di merda oh cazzo perchè? stardo bastardo bastardo eh dai ma porca cazzo 37 morti e fu così che il pick up 28 morì col tesiderio di vincere questo gioco pensiamoci bene oh ecco lo sto di ferma innanzitutto perchè fa quel balletto di merda? devo stare a mutire? eh 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 c'è il trucco di certo non è quello di andare là no 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 è impossibile sto gioco va bene io sono Spiegelaventotto se il video vi è piaciuto mettete mi piace, iscrivetevi, condividete mi trovate sempre su twitter, google plus o sul mio sito spiegelaventotto.x10.mx o su facebook digitando facebook.com slash spiegelaventotto official io sono Spiegelaventotto ciao a tutti ci vediamo nel prossimo video di random play ciao 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 ciao